Eccoci di nuovo in studio con il coordinatore locale di Sinistra e Libertà, Enrico Luciani. Stavamo dicendo, ecco, la questione anche dei rapporti nella coalizione del centro-sinistra con il Partito Democratico che di fatto è tra l'incudine e il martello e quindi il segretario Bersani non può che dire altro che quello che dicevamo prima, ossia ci aspettavamo anche peggio. Sì, in effetti lo ha detto che può andare peggio, però in effetti a Bersani chiederei il peggio qual è. Cioè è vero che al peggio non c'è mai fine, però veramente adesso hanno veramente tirato troppo la corda. E un atteggiamento così rimissivo da parte del centro-sinistra, al mio giudizio è sbagliato. Cioè al mio giudizio è sbagliato, poi lo ripeto, non è che qui stiamo dicendo che non andava fatta una manovra perché... No, anche perché paradossalmente, probabilmente da un punto di vista egoistico ed elettorale, tutto questo che sta accadendo avvantaggerà chi proprio come sinistra e libertà ha sempre assunto una posizione netta e chiara fin dall'inizio. Quindi non è una questione di tatticismo, di polemica politica. E infatti non è che questo... Anzi, chi probabilmente ne farà le spese in modo maggiore sarà proprio il PD tra i vari partiti... Ma infatti guarda, in questo momento io sono d'accordo con tutto questo, non è nemmeno il momento di fare sciacallaggio politico, perché questo sarebbe veramente da imbecilli. Cioè io credo che qui ha fatto un ragionamento politico, cioè proprio da leader, da statista. Cioè noi diciamo, ok, la manovra è questa, a noi non ci piace, punto. Noi ci asseniamo a ripunto, perché noi non possiamo dire che va bene quella roba là. Questo è grave, cioè io sono stato in regione, ho fatto politico a questo livello qua. Credo che sarebbe necessario in questo caso qua una presa di posizione netta. Dire ok, la manovra l'avete fatta voi, cioè voi ci avete detto che la politica sta fuori. Noi non stavamo neanche al governo, io dico loro centrosinistra, loro Bersani. Perfetto, noi all'opposizione stavamo e all'opposizione siamo. Voi siete i tecnici, avete fatto una... di cui assumete la responsabilità. Cioè, ma la deve approvare il Parlamento. Noi no. Noi al massimo ci possiamo assenere. Io voterei contro, io dico Luciani voterei proprio contro, poi. Anche in, come si dice, quando vai in contrasto con il tuo partito. In, ma non mi viene, in contrasto con il mio partito. Eh, però Bersani ha almeno una posizione dove dice, cerca di salvare la faccia. Cioè, dire, noi non possiamo oggi approvare una manovra che comunque non ci convince. Non sappiamo neanche gli effetti reali che produrrà, perché sono convinto che neanche questo accadrà, no? Neanche questo accadrà. Ma comunque, visto che a pagare sono sempre i soliti nodi e sono le famiglie dei lavoratori, sono le famiglie dei cedi più deboli, sono i comuni, sono gli enti territoriali più bassi, cancellate le promenze. Noi su questo non siamo d'accordo. E quindi ci asseniamo. Mi auguro. E questo apriamo già un parallelo con Civita Vecchia, no? La domanda era proprio questa, sul piano locale. Apro un parallelo con Civita Vecchia, però questa è politica. Questa è politica, quindi la politica, speriamo che i politici ci sentano. Un parallelo con Civita Vecchia. Io, per esempio, condivido una dichiarazione fatta dal segretario della Federazione della Sinistra, Paolo Ferrero, no? Che a conclusione dei lavori del suo congresso ha detto che c'è bisogno di ritrovare le ragioni della Sinistra per lo stare insieme. Non condivide chiaramente quello che è successo, ancora non era accaduto, ma già i presupposti c'erano tutti. E quindi io partirei proprio da qua, no? Cioè la Sinistra, noi siamo Sinistra Ecologia e Libertà, un partito nuovo, un partito che ha volontà, voglia, ambizione di governo. E quindi anche di governo centrale. E quindi chiaramente, sapendo che quando arrivi a quei livelli là, poi le mani nel piatto ce le deve mettere. Cioè bisogna governare e bisogna assumerci le responsabilità. Per una volta io vorrei che questo Paese vedesse veramente una organizzazione incentrata su un vero centro-sinistra. E quindi questa richiesta che viene da Paolo Ferrero, per esempio, è una richiesta interessante. Che io fossi a Vendola, mio compagno e amico, Nichi Vendola, prenderei intanto in esame perché è una buona richiesta. Dall'altra c'è sicuramente un partito democratico che a livello nazionale, dopo queste... Sicuramente nei prossimi mesi, non è che il Meta fa a Cassandra, la fa a previsione. Credo che comunque qualcosa all'interno succederà, perché poi le anime sono diverse, no? Quindi c'è chi sta più vicino al mercato, no? Capitale, mercato, chimerismo, e c'è chi sta più vicino ai lavoratori, al cetomelli, alle famiglie, no? Perché sì, Casini parla di famiglie, non so di quale famiglie parla. Perché ci bisogna aiutare le famiglie. Di chi? Di quale paese? Voti perché così aiutiamo le famiglie. Io brevemente, se qui ne capisco, io parlo pure, spero, con i rappresentanti della Chiesa, delle altre formazioni religiose, che veramente hanno a cuore le famiglie, no? Cioè, questi sono i vostri rappresentanti. Va, va bene. E quindi scendendo su un terreno politico, amministrativo e locale, che risvolti ci potranno essere? Abbiamo visto che intanto c'è il dibattito sulle regole delle primarie e non c'è pieno accordo neppure su questioni di forma. Se poi si aggiungono anche divergenze sulla sostanza, proprio sulla visione, diciamo, di quella che dovrebbe essere la società, chiamiamola così, senza voler volare troppo alto, che tipo di alleanza voi immaginate? Ma io sono veramente sereno, proprio sereno, perché io ho un gruppo di compagni, amici, compagni nel partito, amici nel partito, un po' come qualcuno ci chiedeva, noi siamo compagni e amici nel partito. Per fortuna il nostro partito non è diviso in fazioni, perché non ce so, perché non siamo nati per questo. E quindi sono veramente sereno perché il nostro obiettivo è uno, cercare di cambiare il governo della nostra città, intanto dall'attuale situazione che noi non condividiamo, un governo del centro-destra che, secondo il nostro giudizio, è stata un'esperienza negativa per la nostra città, o almeno rispetto al programma che si era dato, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi. Magari sono stati altri motivi, però magari non l'hanno neanche spiegato bene. Comunque, ad oggi il risultato è negativo. Per questo, noi che siamo di sinistra, auspichiamo che il prossimo governo sia un governo di centro-sinistra. Ma nel dire questo, noi affermiamo che sia veramente un governo di cambiamento. Cambiamento significa cambiamento, cambiare. Cambiare rispetto al passato. E se il passato, e se per cambiare nel 2013, quando ci sono le elezioni, che ne so, il centro-sinistra ripresenta a livello nazionale Amato, che c'è stato vent'anni fa, abbiamo cambiato. Secondo me l'abbiamo, e i giovani dicono, magari hanno ritirato fuori una mummia, un sarcofono. Non è possibile, no? Cioè il cambiamento significa mettere gente nuova, che rinnova la politica, che la cambia. E noi partiamo da questo presupposto. Quindi abbiamo lavorato per l'unità del centro-sinistra. E lavoriamo per l'unità del centro-sinistra. E quindi abbiamo partecipato. E questo lo ridico da un altro emittente, l'ho già detto da una tua emittente, magari concorrente. Dico che va un plauso a tutti i miei compagni. E non è una piageria. È vero, perché hanno lavorato bene, hanno lavorato con sacrificio. Stanno lavorando in questo momento, mentre noi siamo qua. Loro stanno portando a termine gli ultimi dettagli del programma. E quindi già li saluto, anche se non ci stanno ascoltando. Bene, un lavoro egregio. Accade che durante questo lavoro, mirando all'obiettivo dell'unità, dove SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, insieme ad alcuni altri compagni, ha fatto il suo grande lavoro, anche documentato. Succede che c'è un'interruzione nelle comunicazioni. O quantomeno. Io non comprendo. Io, Errico Luciani, intelligenza media, non comprendo. Capisco male una questione. La questione è il regolamento. Pensavo che non fosse terminato. Gli ultimi compagni, mi relazionano i lavori. Perché? Perché quello era un tavolo dedicato ai segretari. E siccome io, nella veste di segretario, ma anche di unico, ad oggi, candidato ufficiale, non ho potuto partecipare. Quindi ci andavano i miei compagni della segreteria. Bene. Loro mi dicono, loro me lo dicono, che erano finiti i lavori. Tant'è che l'ultima volta che ci siamo visti, la settimana scorsa, dovevano fare l'ultimo incontro per mettere gli ultimi emendamenti. Mettiamo a punto questi due emendamenti sui quali i miei compagni vanno a confrontarsi. E l'ultima questione, che però per me non era l'ultima, era la prima. Perché io l'avevo sollevata in tempi non sospetti. Il fatto dei due giorni, che qualcuno ha detto perché abbiamo paura dei broglie. Cioè, ma che glielo ha detto? E scusatio non più di d'accusatio manifesta. E io ho detto, e l'ho detto sempre dall'altro, ho detto, attenzione, due giorni si fanno per le elezioni vere, dove, guarda un po', lo Stato mette a guardia e a sorveglianza delle urne e dei seggi in tutta Italia. Le forze di polizia, certo. O i militari, di solito polizia, guardia dei militari. Ok, bene. Noi non siamo in questi termini. Qua è un'elezione, quasi una festa, dove tutto il popolo, tutto il popolo, tutto. Non una parte del popolo. Tutto il popolo dovrebbe partecipare. Non le truppe camellate che qualcuno, diciamo, questi barbottano perché vorrebbero che cosa? Vorrebbero che cosa? Cioè, che qualcuno ha fatto gli accordi, ma che facessero nome e cognome di chi ha fatto gli accordi. Noi vogliamo che a partecipare intanto ci vanno tutti. Quindi in quella giornata di festa, una giornata di festa, tutti i cittadini vanno a partecipare. Due giorni non avendo... Anche a prescindere dall'iscrizione ad altri partiti? Ma secondo me sì. Secondo me sì. Perché se i cittadini, mettiamo il signor Mario Rossi, che fino a ieri è stato iscritto a un partito del centro-destra, no? Perché era convinto. Ma magari oggi non è più, si sente più rappresentato da quel partito e vorrebbe votare per uno di quelli che si presenta. Perché non può farlo? E peraltro ricordiamo che anche il voto disgiunto è anche ammesso regolarmente. Per legge. Si può votare un partito e un candidato sindaco e un altro schieramento. Ancora di più Massimiliano, tu sei un esperto di queste cose, credo, volendo me dici se sbaglio o meno, io faccio un altro esempio, no? Però finiamo prima con il primo punto. Il primo punto era questo. Il primo punto era quello di dire due giorni sono impegnativi per una... Organizzazione, diciamo... Non istituzionalizzata. Non istituzionalizzata. Ma questo significa aver paura delle broglie? Allora lasciamo tutto aperto. Non è che significa avere paura delle broglie. Significa lo Stato che ha paura delle broglie. Eppure le controlla queste cose qua, no? Bene. Abbiamo detto questo, abbiamo detto che un giorno, una bella giornata di festa, dalla mattina alla sera, significa tanto, sappiamo che nell'occasione delle primarie non è che vanno a votare, non ci vanno neanche per quelle vere, ma soprattutto per le primarie, quanti saranno? Un 15%? Quelli che andranno a votare benissimo, poteva svolgersi in questa maniera. Quindi con De Gazebo, come avviene poi in altre città? O con De Gazebo, come avviene in altre città, ma anche con qualche seggio, non lo so. Io su questo, però finito dalla mattina alla sera, alla sera alle 9 si chiude, si apre una leone e chi ha vinto? Bravo. C'erano altre due questioni. Allora su questa, quindi partiamo al contrario, su questa io ho detto, dopo una discussione lunga, che su questa lasciavo aperta la richiesta. Sulle altre due questioni invece, che avevamo ampiamente discusso, ok, chiuso, andava bene così come era stata scelta? Andava bene, facendo io, noi un passo indietro. Perché? In altre città sono scesi anche al discorso del doppio turno. Cioè i candidati che si misurano non vincono al primo turno con un voto magari di distanza. Vincono se superano al primo turno il 40%, altrimenti si va in ballottaggio. sembra una cosa stupida, è una cosa pure questa intelligente. Perché? Perché se siamo in 5, ci confrontiamo e tutti e tre prendiamo intorno al 20%, e uno prende un voto di più, è quello farzino. Va bene, abbiamo detto ok, perché pure quello signifierebbe uno sforzo, signifierebbe ritornare a votare la domenica successiva. Va bene, chi vince? Un voto ha vinto. Bravo! Abbiamo detto sul voto e sulle schedature. Ma attenzione, abbiamo detto. Se questo è fatto con una finalità egregia, importante, perché si vuole evitare il voto di scambio, oppure che qualcuno manda le truppe camellate. Una finalità nobile. No, una finalità nobile, giusta. Io l'ho capito che loro hanno avuto questo obiettivo, evitare, quindi con una finalità nobile, evitare che ci fosse un inquinamento del voto. Io ho spiegato molto serenamente che non è così. Pur riconoscendo, pur riconoscendo le motivazioni. Le motivazioni. Perché non è così? Immagina che un padrone qualsiasi dica ai suoi, che ne so, dicono che ci sono 5.000 tessere. Che qualcuno ha fatto. Io ho detto, e lo ripeto da questa emittente, io mi auguro che a votare per le primarie ci vadano tutti i libri cittadini, le donne e uomini di civita vecchia. Che vadano a votare e votano il loro candidato perché quello vogliono o vorrebbero. Senza nessuna costrizione, anzi, dico ancora e aggiungo, se ancora c'è qualcuno che vi promette che attraverso una tessera, attraverso un bollo, attraverso una costrizione, attraverso una vostra, piegare la testa, avrete soddisfatti i vostri bisogni, prendete la tesserina e fateci i coriani. Ho detto. Ma se c'è qualcuno che è in grado di governare questi processi e dice, a Pinco Pallino, sempre a Mario Rossi, vai a votare per Pinco Pallino, così avrai garantito quel posto che ti abbiamo promesso. Quello parte e va nella sede. In quella sede gli verranno chiesti i documenti, quindi verrà smarcato e poi gli diranno, sottoscrivi il, sì, certo, sede del PDL, no, mette il dito su tra, quello fa tutto, va dentro, vota, gli fa, e poi dice, ecco qua, obiettivo, bravo, adesso avrai il tuo posto, bugiardi, non avrai niente quel cittadino lì, questo devono capire i cittadini, che saranno servi, sfruttati e poi non avranno niente. Però ho detto pure su questo, che al fine era nobile, quello di evitarlo, però schedature no, schedature no, perché è proprio contro la Costituzione, cioè l'appartenenza a un partito è una questione protetta dalla legge sulla privacy, cioè non è che qualcuno può andare in giro, ah questi sono scritti da qua, ah questi sono scritti, non si può fare. Infatti qualcuno addirittura ha detto, confronteremo con l'elenco degli iscritti del PDL. Addirittura è così, ma gli hanno detto, così hanno detto. Questo è quello che è uscito, quindi intanto bisognerebbe chiedersi come facciano ad avere gli elenchi degli iscritti del altro partito. Questo è un fatto gravissimo, anzi, io inviterei i cittadini a tutelarsi su questo, perché proprio per difendere la loro prova, siccome io farei per la mia, cioè nessuno deve, è chiaro che io sono un personaggio politico, è un personaggio pubblico, è chiaro che non è. Poi è normale che nessuno dice, io so di questo, o dice, ma lui lo dice, ne è che lo possono dirgli altri. Quindi anche su questo, molto serenamente. Anche perché questo può diventare, dice lei, un disincentivo proprio a partecipare alle primarie. Quindi io spero, e lo dico da questa emittente, che ringrazio, che io mi auguro serenamente, che tutti ci, per me, per me Enrico Luciani 81259, e per voi, soprattutto per voi e per il vostro futuro e per la vostra libertà, andate a votare sereni, andate a votare per chi volete, per chi volete, per chi avete scelto e per chi avete fiducia, mandateci, senza avere costrizione. E se qualcuno, e se qualcuno osasse mettere alla berlina la vostra appartenenza, dice, ah, su questo ognuno si assume responsabilità. Certo non noi, perché noi ci siamo proprio staccati da questa roba qua. È chiaro che le truppe capellate, mi auguro, non ci siano, me lo auguro per me, me lo auguro per me, me lo auguro che sia. Però tracciando un bilancio, lei ha detto, passi la prima, passi la seconda, adesso è andata anche la terza, alla fine quindi voi parteciperete a delle primarie di cui condividete, rimane nello spirito iniziale, poi per il resto, per la forma, poco. No, diciamo, però ecco, proprio per essere corretti, perché se no sarebbe veramente scorretto per i miei compagni. Cioè le prime due, le questioni delle schedature e la questione del 40% è stata discursa e poi in commissione superata. Dei due giorni, non delle schedature. Delle schedature. Ah, anche delle schedature, sì. No, la questione dei due giorni è rimasta, è rimasta, mentre sulle prime due c'era stato d'accordo e io l'ho sottolineato solo per fargli capire che su quello i miei compagni avevano già elaborato. Sono rimasti due giorni però. Sono rimasti due giorni, su questo ho invitati, li invito ancora oggi, ma sono sicuro che, perché se no vince Luciani, se no vince, e non deve, non vince Luciani perché ha avuto ragione. Allora, siccome ha ragione e deve fessi, la tenessero loro, io mi tengo la mia. Perché qualcun altro dice, Luciani vuole far saltare il tavolo, il bagno. No, io non voglio far saltare niente, tant'è che io dico, lo faccio io e lo faccio indietro, qual'è il problema? Abbiamo detto che ha ragione e deve fessi, e io non c'ho ragione, e quindi è bene il ritorno. Quindi hanno fatti tre fra una cosa e la l'altra. Però rimango sulle mie convinzioni, perché le primarie si potevano fare tranquillamente in un giorno, potevano essere serene, saranno serene lo stesso, tranquilli in una giornata, dalla mattina alla sera, magari una bella giornata di sole come Cilecchia ce ne regala tante, e alla sera si tracciava la finale. Così rimane un percorso dove soprattutto le forze minori, quelle stesse forze, che prima abbiamo fatto un collegamento con il nazionale, che nel nazionale Ferrero dice determinate cose. Ma a me sa che Cilecchia quando ci viene non parla con i compagni suoi, non ci parla, non li conosce, eppure li conosce bene, non ci parla. Beh, questo potrebbe, su altre cose, valere anche per l'Italia dei valori, tra l'altro. Comunque, abbiamo superato ampiamente il tempo a nostra disposizione, c'è già il telegiornale che incombe, io ringrazio Enrico Luciani, ci vedremo presto nella nostra trasmissione, grazie a Sonia Bertino, con la quale non abbiamo avuto tempo di vedere poi troppe notizie sul touchscreen, noi ci vediamo domani alle 19 con Newsroom, buon proseguimento con il telegiornale di Provincia TV, arrivederci. Grazie.